Una società per relazioni è una rassegna che nasce dal lavoro e dalla coprogettazione di tantissime associazioni della città. Vengono usati linguaggi, luoghi diversi tra loro con l'obiettivo comune, che è quello di combattere le radici della violenza di genere, delle discriminazioni e degli stereotipi. Non chiamarmi signorina, chiamami dottora. Le parole che usiamo creano il mondo in cui viviamo. Impariamo a farci caso. No alla violenza sulle donne perché ce n'è tanta, è nel quotidiano e molte volte non abbiamo la capacità di riconoscerla. Faccio teatro perché è questa la bellezza che offro alla distruzione del mondo. Faccio teatro perché devo farlo. Io sono Eugenio Sideri, regista delle Oltraggiose, ma queste sono parole di Julian Beck, fondatore del Living Theater. Parole che ho fatto mie e ho fatto del nostro gruppo perché segnano e significano il lavoro che stiamo cercando di portare avanti come Oltraggiose. Un lavoro che parte da una figura importante per la libertà di stampa, che è Anna Politoskaya, ma non solo. Un lavoro che vuole parlare di guerra, di donne nella guerra, di violenza. Non solo nella guerra, ma di violenza in generale. Partiamo da Anna Politoskaya per allargare il cerchio e parlare anche di noi. Psicologia Urbana e Creativa ha organizzato da alcuni anni con i fondi dei piani di zona regionali dei corsi che si chiamano Io mi sento contro la violenza alle donne e per aiutare gli uomini a riconoscere i sentimenti. Non è violento solo chi uccide le donne, chi le picchia, chi ne limita la libertà. È violento anche chi dice ho ragione, io non hai ragione tu. Volevo dirti che la libertà è una lotta costante e che l'associazione femminile maschile plurale si riconosce in un femminismo festoso ma anche conflittuale, migrante e soprattutto che faccia tanto tanto rumore. Ciao, siamo quelli della recita, stiamo preparando uno spettacolo che si chiama Corsoletta d'Adamo che sarà l'esito di un laboratorio di stand-up comedy e di cabaret che abbiamo fatto sul tema della discriminazione. Forse è meglio se lo spiego io, perché non voglio dire. Ma me fai parlare? Ecco, questo è esattamente ciò che succede di solito. Queste sono le situazioni che vogliamo presentare in chiave ironica perché si rida ma si rifletta anche altrettanto. Te vai di là, vai in punizione che... di nuovo? Tutte le volte? Allo spazio sociale Polivalente Agorà di Lido Adriano, la cooperativa Libra combatte la violenza di genere attraverso la prevenzione. Facciamo attività educativa con ragazzi dai 6 ai 14 anni e in queste attività, comprese i laboratori, cerchiamo di lavorare sulla libertà di essere se stessi e sull'importanza di opporsi agli stereotipi e ai pregiudizi di genere. L'associazione Linea Rosa, che opera sul territorio Ravennate da quasi 30 anni, dice no alla violenza sulle donne. Dice anche che uscire dalla violenza si può. Questo è uno slogan che da tanti anni ci accompagna nei nostri percorsi perché noi veramente ci crediamo. Le donne hanno diritto di liberarsi da sopprusi e violenze e quindi il nostro ultimo slogan è stato proprio tu puoi. Quindi a tutte le donne l'invito è di rivolgersi ai centri antiviolenza perché possono liberarsi da situazioni di violenza. Attualmente a Lagorà stiamo facendo un laboratorio di tre appuntamenti dove i ragazzi in modalità di laboratorio esperienziale sperimentano proprio attraverso video, letture e spot cosa significa uno stereotipo di genere e un pregiudizio di genere. Questi video trasmettono alle volte comportamenti violenti, agiti e subiti per cui i ragazzi sperimentano anche la differenza di poter intervenire rispetto invece a rimanere indifferenti.